La maggioranza si contraddistingue e c'è nel momento in cui si votano tutte le pratiche in Consiglio Comunale, non abbiamo mai avuto problemi di voti in Consiglio Comunale, abbiamo ogni tanto qualche problema di assenza, ma c'è anche nel centro-sinistra, ma non abbiamo mai avuto un solo Consiglio Comunale in cui non abbiamo avuto la maggioranza per approvare le pratiche, c'è un problema solo di presenza alcune volte, ma andando in seconda convocazione non abbiamo neanche problema di presenza. Certamente c'è stata una problematica relativamente alle elezioni provinciali, abbiamo avuto qualche problema all'interno di Forza Italia, due consiglieri comunali con il quale abbiamo in questi giorni incontrato, abbiamo discusso, dovranno decidere in base agli atteggiamenti se vogliono restare in maggioranza o vogliono andare all'opposizione, ma comunque anche… Ecco nel caso dovessero andare all'opposizione… I numeri ci sono sempre, abbiamo 21 consigli di maggioranza a cui poi si è unità anche l'Udc perché l'Udc è passato ormai nel centro-destra, quindi siamo 22, basterebbe averne 16, 17, quindi non abbiamo mai avuto questi problemi, il meraviglio che si voglia imbastire una problematica, poi la gente non ci si può, l'importante è che si approvino le pratiche. Ecco domani c'è il Consiglio Comunale, dovrebbe esserci, non so se… Sì, non ci sono pratiche in approvazione, ci saranno sicuramente argomenti importanti che verranno discussi, ma non ci sono pratiche in approvazione, ma noi non abbiamo mai avuto un problema di approvare le pratiche, di approvare il bilancio e quindi la maggioranza è sempre stata coese, non abbiamo mai avuto di queste problematiche, diciamo che si cerca di fare polemica anche sui giornali perché fa più notizie quando c'è polemica, anche oggi riflettevo, oggi c'era un articolo sul giornale in cui si diceva che il Comune non riesce a incassare 600 mila Euro dai cittadini, dalle tasse etc., che è vero perché ci sono dei ritardi nei pagamenti, poi con una mezza pagina piena, poi invece c'era un altro articolo della provincia in cui ho trovato degli impianti fotovoltaici costruiti 3-4 anni fa, mai attaccati, attaccati, mai attivati e quindi uno spreco, un trafiletto piccolino, quindi quello che fa la notizia è quella negativa, quella positiva non c'è assolutamente mai. In parte lei ha ragione, ma soprattutto dai giornali, dai mezzi di comunicazione nazionale, però adesso si sta ripercuotendo anche a livello dell'Italia. Ieri è venuto il Presidente della Federazione Nazionale, il gioco dilettante, abbiamo inaugurato il secondo campo in erba sintetica, la piccola Coverciano, la chiamiamo così, l'impianto che abbiamo a Catanzaro Sala, era un giorno importantissimo, anche lì un trafiletto piccolino quando invece di questi impianti se ne fanno pochissimi in Italia, specialmente adesso con la crisi degli antilocali.